Ciao, siamo Dave e Danny, la metà chitarristica dei Roommates, siamo qui per presentarvi il playthrough tratto dal nostro nuovo album Roots Vi mostreremo le parti di chitarra del terzo brano del nostro disco, in questo caso sarà Feed Me Dopo la parte suonata vi racconteremo che cosa abbiamo utilizzato e le scelte artistiche che abbiamo fatto per rendere speciale il nostro pezzo E se avete piacere lasciateci un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella Buon ascolto! 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 Il mio riff di chitarra iniziale era nato da un'improvvisazione su una marcetta tipo militare. Visivamente doveva ricordare un giocoliere che rimaneva saldo al suo tempo incalzante. Le strofe vedono le chitarre suddividersi lo spazio. Una racconta un riff ossessivo mentre l'altra entra nel prechorus per dare corpo. Nella parte centrale le chitarre si suddividono temporalmente per poi sovrapporsi e armonizzando lo stesso riff clownesco che poi caratterizza un po' tutto il brano Le chitarre sono accordate standard quindi Milare Solsimi sia la mia Les Paul che la Lorenzi di Danny Le testate che abbiamo utilizzato sono la Marshall GC-800 per quanto riguarda me e la Jaden Freire Glam 50 di Danny L'unico effetto che ho utilizzato è stato il chorus durante la strofa il Corona Chorus della TC Electronic Mi sono messo in testo e pesa E pesa? Quindi vi ringraziamo per aver seguito il video se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella E questo è tutto con il playthrough di Feed Me se avete piacere seguiteci sul nostro sito www.roommatesband.com A presto Ciao Ciao